Momenti di tensione e paura nella serata di martedì 26 marzo a Udine in Viale Palmanova al supermercato Panorama. Due uomini con fare sospetto si stavano aggirando all'interno delle corsie del supermercato e sono stati notati da commessi e direttore. I due si erano impossessati effettivamente di articoli e merce che volevano rubare andandosene dal negozio senza pagare e nascondendo la refurtiva sotto i propri vestiti. Accordisi del fatto, il direttore del punto vendita e l'addetto alla sicurezza hanno deciso di aspettare fuori i rapinatori che però vedendosi braccati anziché restituire la merce hanno deciso di avventarsi su di loro sferrandogli una serie violenta di pugni in testa e al volto. Fortunatamente sono intervenute altre persone che erano all'interno del negozio al momento del fatto e che hanno prestato sia soccorso a direttore addetto alla sicurezza ma anche hanno impedito che i due malviventi riuscissero ad allontanarsi. All'arrivo della volante uno dei due ladri ha cercato di gettarsi addosso ad uno dei poliziotti prima di essere, non senza difficoltà, bloccato definitivamente. I due malviventi si è scoperto essere due fratelli cittadini udinesi di 47 e 35 anni sono stati arrestati in flagranza di reato e trasportati nel carcere di via Spalato.